La ricostruzione in parte si è avviata perché bisogna rendere giustizia dei 1150 progetti di ricostruzione privata che sono stati approvati, che sono oggi cantieri e alcuni anche finiti. Le difficoltà sono un po' quelle che dicevano gli intervistati, soprattutto si utilizzano procedure ordinarie in un contesto assolutamente straordinario. Se pensiamo che un comune, ad esempio come quello di Arquata, si trova oggi ad avere la possibilità di realizzare 70 milioni già finanziati di Euro di opere pubbliche che corrisponde più o meno a un piano delle opere almeno trentennale per quel comune, non ha poi gli strumenti, le persone, è semplicemente il responsabile l'unico del procedimento che possa portare avanti quell'iniziativa. Si deve procedere con strumenti ordinari che sono già nell'ordinario faticosi e difficili da utilizzare in una situazione assolutamente straordinaria dove invece servirebbe ben altro. Il legislatore mano a mano ha introdotto novità, piccoli cambiamenti, ogni volta questi sono stati certamente utili e positivi, però ancora bisogna guardare bene le cose e c'è da fare, servono più forti, più profonde semplificazioni per poter dare un'altra dinamica, altri tempi alla ricostruzione. Senta Presidente, allora mi spiega una cosa però che non mi è molto chiara, come per quasi tutte le emergenze e nei terremoti in particolare, anche in questo caso è stato nominato un commissario straordinario, fra l'altro è una sua collega di partito Paola De Micheli, il cui incarico scade proprio il prossimo 11 di settembre, è stata in carica un anno. Dovrebbe essere rinnovata questa carica, ma ci sono da più parti richieste invece che questa carica venga così smembrata e che ognuno dei quattro Presidenti di Regione si assuma in qualche modo questo ruolo per la propria Regione. Questo non significa quindi ulteriormente complicare le cose? Normalmente sì, nei terremoti venne nominato commissario il Presidente, questa è stata un po' la storia, almeno degli ultimi anni, nelle Marche, 20 anni fa il commissario del terremoto e del Presidente della Regione, anche se riguardava Umbria e Marche. Io non trovo questa scelta a questo punto così strategica, se può essere nominato benissimo un nuovo commissario, è importante che questo commissario abbia un rapporto molto stretto con il governo che si è in grado di mettere in atto rapidamente quelle cose che dicevo prima, cioè ascoltare i territori in maniera molto concreta, molto diretta, guardare le cose che non vanno e migliorarle. Anziché farlo con uno stilicidio, provvedimento dopo provvedimento, raccogliere quello che veramente serve, farlo con un unico provvedimento, dare stabilità all'ufficio di ricostruzione, rinnovando le persone che ci stanno lavorando, circa 600 che hanno il contratto che scade a fine anno su un periodo più lungo e con gli strumenti che dicevamo prima. Io trovo a questo punto non dirimente questo passaggio, mentre è molto più importante un salto di qualità. Due anni dopo l'esperienza fatta andare proprio a vedere i singoli oggetti dove si sono bloccati, quale sono le difficoltà e dare un corso straordinario alla possibilità di spendere tante risorse che abbiamo a disposizione e che si trasformano oltretutto in riqualificazione del territorio, nel ritorno dei cittadini, nella ripartenza dell'economia e in qualcosa che veramente riteniamo molto importante. Metterei il fuoco più su questi altri aspetti, il commissario più ha rapporti rapidi e snelli col governo, più facilita a mio giudizio la ricostruzione. Paola si è comportata in maniera Grecia, ha tenuto un profilo sempre istituzionale, ha messo a disposizione il mandato quando c'è stato entrato in carica un nuovo governo e il governo stesso ha deciso di mantenerla fino all'11 settembre. Io credo che l'importante sia fare in modo che questo filo non si spezzi, che il tempo, che i due anni che sono passati dalla tragedia, che sono tanti ma nella logica della ricostruzione, sono stati almeno chiamiamoli necessari per rendersi conto di quello che serve. C'è chi sostiene che in realtà serva più che altro come capro espiatorio se le cose non vanno bene, perché invece quando vanno bene ogni sindaco, ogni presidente invece può aggiudicarsi la medaglia.